Sento un rumore, secondo me se lo lasciamo agire il tempo giusto, questo qui l'uovo ce lo spacca sul serio per davvero. Ben ritornati boys and girls qui su Lion Lab per un nuovo video. Sono ingobbito perché oggi non c'è Anna, quindi ho messo il treppiede perché sono sicuro che me lo stavate per chiedere. Sono ingobbito perché tutto ha arrangiato un po' male oggi, però non vi preoccupate, faremo il video in sicurezza. Come al solito mi raccomando, ve lo dico subito, non cercate di imitare le azioni che vedrete svolte in questo video. Potrebbero essere pericolose, per noi non lo sono perché lo facciamo in perfetta sicurezza. Abbiamo, ho anche l'altra telecamera perché così vi posso far vedere bene le cose, abbiamo tutta una serie di oggetti che dobbiamo provare a squagliare con il nostro gigalaserone over 9000 legale nel paese in cui è registrato questo video. Abbiamo la carne che mi dispiace un po' sprecare ma proveremo a cuocerla con il laser, abbiamo il cioccolato che proveremo a sciogliere, abbiamo un uovo che proveremo ad aprire e questo secondo me sarà forse la cosa più interessante. Abbiamo una cramella gommosa che proveremo a sciogliere anche lei e abbiamo infine un vrustellone che proveremo a tagliare in due. Ovviamente poi se non ci basta abbiamo anche Mr. Muscolo Superfigustolo che proveremo anche lui a squartarlo in mille pezzi. Non so come andrà a finire però intanto prepariamoci. Come voi sapete per manovrare questo laser sicuramente avrete visto il primo video. Doppio paio di occhiali ragazzi perché non si può mai essere troppo sicuri. E' difficile, è difficile, è difficile, è difficile, è difficile, è difficile, è difficile, aspetta, eccolo, un Ioniu. Ok, sono occhialato, doppio paio, perfettamente aderenti, direi che ci siamo ragazzi, sono anche swag con questi. Adesso, passiamo alla seconda parte del piano, quindi, chiave alla mano perché ci ricordiamo per attivare questo laser bisognava addirittura girare una chiave. Bisognava togliere lo stopper da davanti, con grande e massima attenzione ragazzi, perché un laser di questa potenza è molto pericoloso. Quindi bisogna manovrarlo con grande cautela e giriamo la chiave. Ok, a questo punto il laser è armato, è pronto a fare fuoco, proviamo? Esattamente sì, il laser fa fuoco, quindi a questo punto non dobbiamo fare altro che provarlo sulle nostre cose, sui nostri oggetti che disponiamo qui. Allora, prima di tutto, io proverei, spero che voi riuscite a vedere bene da di là, perché quella telecamera la vedo un pochino lontana, ma io sto cercando di arrangiarmi alla meglio, e non è semplice. Metterò quest'altra vicina così, in modo che magari si riesce un po' a vedere. La prima cosa che proviamo sarà la carne ragazzi, pronti? Vai, vai, allora, il laser è puntato sopra la carne, ci ricordiamo nel primo episodio abbiamo visto che la potenza era fortissima, e infatti io non vorrei, poi vi farò vedere meglio, eh. Adesso non so se la telecamera vi starà mostrando bene tutto quello che sta succedendo, in ogni caso io adesso lo metto da una parte e vi faccio vedere bene con l'altra. Allora, io dagli occhiali ragazzi vedo poco e niente, però mi sembra di vedere che, assurdamente, e quasi incredibilmente, il nostro laser ha effettivamente cotto un pezzettino di questa roba. Allora, guardate, si vede benissimo che una parte è diventata carbonizzata, ora io non mi toglierò assolutamente cosa è successo, ho premuto qualcosa, non dovevo toccare, mannaggia al lion. Io ovviamente non, quando faccio questi video sono sempre un po' teso perché mi rendo conto che sto trattando con un oggetto effettivamente con un potenziale distruttivo ingente, quindi lo faccio con grande cautela. In ogni caso non mi toglierò mai gli occhiali fino alla fine di questo video, fino a che non avremmo rimesso il laser in modalità di sicurezza. Adesso, seconda cosa che dobbiamo provare a fare, anche qui spero voi riusciate a vedere bene, sarà il cioccolatino, ok? Quindi questo è il secondo che noi proveremo a bruciare, a sciogliere. Ora, l'ho fatto poco, ma già posso vedere che sulla superficie del cioccolatino si intravede qualcosa, perché riesco a vedere un po' di fumo. Ovviamente poco, eh ragazzi, però se si vede del fumo voi sapete benissimo che può voler dire una sola cosa, cioè che stiamo effettivamente squagliando qualcosa. E infatti, ora vi mostro bene, il fumo lo vedrete probabilmente anche con l'altra telecamera, ma vi mostro bene. C'è anche un buon odore di cioccolato fuso in un certo senso, un po' bruciacchiato, però effettivamente ragazzi, porca miseria. Anche qui il nostro laser ci lascia esterrefatti. Ovviamente tutto in sicurezza ragazzi, ma ve lo ripeto, non provateci nemmeno, ma neanche con laser di minore potenza. Ricordatevi che un laser anche non così potente può comunque danneggiare la vista, sia vostra che degli animali. Quindi state molto attenti quando giocate, anzi non giocateci proprio, con i puntatori laser. Proseguiamo col prossimo oggetto. Io direi che a questo punto andiamo con l'uovo. Dubito seriamente che l'uovo possa subire in qualche modo del danno dal nostro laser, però proviamoci ugualmente, perché dobbiamo scoprire che cosa succede al nostro uovo. Allora, difficile dire... Ma funziona ancora il mio laser? Sì, funziona ancora. Difficile dire se effettivamente sta facendo qualcosa oppure no, eh. Oddio, sento del rumore. Sento un rumore. Secondo me se lo lasciamo agire il tempo giusto, questo qui l'uovo ce lo spacca sul serio per davvero. Non so che cosa voi possiate vedere dall'altra parte con l'altra telecamera. Sto cercando di stare il più fermo possibile. Sento uno scricchiolio. Dopo il laser, voglio inquadrarvi bene con l'altra telecamera, mostrarvi quello che è successo. Potete vedere che effettivamente il laser ha lasciato un marchio brutto nero, bruttissimo, di fusione, di bruciatura sull'uovo. Non l'ha spaccato al momento, però secondo me se gli diamo un attimo di più, io penso che ce la faccia, eh. Provo a mettervi anche l'altra telecamera in modo che forse, forse riusciate anche a vedere qualcosa. Continuiamo a provare. Difficile sapere quanto tempo ci vorrà. Fa anche uno strano odore, la puzza di uovo del coperchio dell'uovo lì, il guscio. Come quando lo bruci, no? Non so se vi è mai capitato mentre cuoci che va a finire un pezzetto in mezzo alla fiamma e si bruciacchia. L'odore è quello. Eh, ci sta mettendo il suo tempo, eh, però... Secondo me, con la giusta pazienza, purtroppo io non riesco a stare fermo e parlare insieme. Quindi il puntatore si muove. Se potesse stare fermo immobile... Oh, ragazzi, aspetta, oh! Fermi tutti! Ragazzi, l'uovo è bucato, eh. L'uovo è bucato. L'uovo... No, no, io adesso non vedo nulla, ma a me pare proprio che è bucato. O è solo carbonizzato? Eh, io ragazzi, ve lo dico, con questi occhiali addosso vedo poco e niente, però... Oddio, forse è solo carbonizzato. E mi sembra che effettivamente sia ancora piuttosto resistente. Quindi, forse, con l'uovo, per quanto la potenza sia sorprendente, può essere che non ce la fa, eh. Proviamo la caramella gommogena. La caramella gommogena, dai. La caramella gommogena, ve lo dico io, lo vedo già da qui, che se la sta divorando. Eh, ma la caramella non ha speranza, eh. Vedo già una nuvola di fumo dolce che si innalza. Uuuuh, subabou del laser. A voglia. Ragazzi miei, guardate qua. Se l'è sciolticchiata un po'. Ovviamente, passandoci più tempo, l'effetto aumenterebbe sempre di più, eh. Naturale. E io ci sto un attimo, perché ve l'ho detto, mi crea anche una certa ansia tenere acceso questo aggeggio. Però si vede benissimo, eh. A noi interessa scoprire se il potenziale ce l'ha. E il potenziale di bucare questa caramella, di scioglierla, ha voglia che ce l'ha. Rimane la prova definitiva, la prova del 9. Tagliare un wurstel. Devo dirvi la verità, una cosa mi ha un po' deluso di questo laser, rispetto al primo video che abbiamo fatto. Cioè, è potentissimo. Sapete cosa, però, potrebbe essere? Che ha una batteria, un indicatore di batteria, e si sta ovviamente scaricando. Non è più pieno, come l'altra volta. Quindi magari la potenza va un po' a decrescere, no? Con questa minore carica di batteria. Potrebbe essere questo che quindi ha ridotto un po' la potenza. Perché io mi aspettavo che bucasse effettivamente l'uovo, almeno. La carne l'ha cotta, il cioccolato l'ha sciolto, la caramella l'ha sciolta. L'uovo però lo ha bruciacchiato, ma non è penetrato, ecco. Questo mi delude un pochino, ma immagino che sia parte dell'inghippo, eh. Non lo so. Ma io ho, certo, certo, ho preparato il laser. Il laser è perfettamente agibile. Più di così, ragazzi, non so cos'altro io avrei potuto fare. Perché, vedete, cuocere cuoce. Anche il view style qua si sente addirittura, non so se lo sentite voi, forse no. Ma lo sento sfrigolare. Come quando lo metti sulla griglia. Poi, a livello di visibilità, però, tutto quello che vedi è un buchettino bruciacchiato. Capite, cioè, ti rimani un po' così. Perché non è che si sta tagliando. L'ha bruciato, l'ha bruciato, sì, l'ha bruciato, ma l'ha bruciato e basta. Addirittura il rumore di scoppiettio, mi dispiace che non lo sentiate, sembra di essere in una grigliata dello zubeppe. È una cosa speciale e spettacolare. Per non parlare della luce che sicuramente in questo momento si sta diffondendo per tutta la stanza e che io non vedo grazie ai miei occhiali super fighi sul pezzo. Eh, vedete, vedete, di nuovo sì. La bruciacchiatura c'è, è interessante, al 100%. Si vede anche proprio un po' il cotto, vedete come vagamente ha cotto. Quindi questo video ci insegna a non giocare con queste cose perché cuociono. Letteralmente possono cuocere la pelle. Come hanno fatto con questo view style. Immaginate cosa può succedere negli occhi. Non vedi più, eh, ragazzi. Non c'è da scherzare, infatti, è assolutamente massima cautela con qualsiasi tipo di laser, specialmente così potente. Noi abbiamo provato tutte le cose. Mister Muscolo rimane qui per un prossimo video in cui utilizzeremo il laser. Anche perché me lo state chiedendo tantissimo. Vi interessa molto, posso benissimo comprendervi. Quindi sicuramente ci saranno anche altri video. Adesso però, prima di ogni altra cosa, mettiamo il nostro laser in sicurezza. Quindi giriamo prima di cosa la chiave, così. In modo tale che adesso lui non possa più essere acceso, esattamente. Poi, come seconda cosa, mettiamo di nuovo lo stopper davanti. Che questo blocca proprio definitivamente il laser. È un tappo, praticamente, no? Dalla punta del laser in modo tale che anche in caso di un'accensione accidentale non possa fuoriuscire il laser in nessun modo. Cioè, guardate quante misure di sicurezza. E infine, togliamo anche le batterie perché fidatevi di me, quando si gioca con cose pericolose non si può mai essere troppo cauti. Quindi, togliamo anche le batterie e ci teniamo quindi il Mister Muscolone per un prossimo video. Che potrebbe essere tra una settimana oppure più avanti, me lo dovete dire voi, quando volete vedere. Adesso finalmente posso, in sicurezza, constatare anch'io quello che abbiamo fatto. Perché io non vedevo granché, eh. Cioè, già è tanto se vedevo voi. Allora, ve le faccio rivedere. Caramella, decisamente bruciata. Io non vedevo che era così, eh. Mamma mia. Il Wüstel? Il Wüstel è cotto. Questo riuscivo a vederlo. Il cioccolato? Anche il cioccolato completamente bruciato. Neanche sciolto, proprio bruciato. L'uovo è il più sorprendente, però. Guardate che coppia di macchie. Secondo me non era lontano da bucarsi, eh, comunque. Ci voleva un altro po', ma ci sarebbe prima o poi bucato. E per ultima la carne. Che mi spiace aver sprecato, ma è la cosa più interessante, perché ti dimostra effettivamente la cottura che il laser crea su una cosa che abbiamo anche noi, la carne, no? Effettivamente. Mamma mia, che roba. Direi però di fermarci così. Grazie di aver visto questo video. Fatemi sapere cos'altro provare con il laser, oltre che il nostro Mr. Muscolo. E Lion out! Oltre!